Aveva atteso sei mesi per una visita neurologica, ma quando si è presentata nel giorno stabilito presso il distretto sanitario di Sulmona, fatto la mara scoperta, la visita era stata cancellata. Al posto suo era stato inserito un altro utente senza alcun preavviso o comunicazione. L'ingredibile vicenda vede protagonista una donna di mezz'età residente a Sulmona che l'altro giorno ha protestato con vemenza nei confronti degli operatori del distretto, strappando letteralmente l'impegnativa medica, ridotta a piccoli frammenti per la rabbia e lo sconcerto di quanto accaduto. Avevo prenotato la prestazione sanitaria per un problema a una mano, sei mesi di attesa. Circa una settimana prima della prenotazione mi sono recata al CUP per sincerarmi che la visita venisse di fatto svolta. Avendo ottenuto le dovute rassicurazioni mi sono presentata nel giorno e nell'orario stabilito, racconta la donna spiegando che per il distretto la visita non era inserita nel calendario del giorno. Cancellata completamente. Dopo il gesto di disperazione la donna è tornata al CUP per farsi ricostruire la filiera della prenotazione. A quel punto il medico di turno presso il distretto, ricomponendo la documentazione dell'impegnativa, ha preso atto della svista e ha erogato la prestazione sanitaria. Una mattinata all'inferno per la donna che si è sfogata con la nostra emittente, spiegando che una sanità attenta alla persona dovrebbe evitare questi incidenti di percorso, soprattutto quando si ha a che fare con persone fragili. Un episodio che nulla toglie l'abnegazione alla competenza dei sanitari del distretto, ma conferma i problemi organizzativi dell'azienda, che come nel caso di specie esasperano gli utenti. Questa mattina peraltro la situazione esplosiva si è verificata nel quarto piano della Labolino, negli spazi di diabetologia, fino a 20 utenti in attesa alle 8, ammucchiati come pecore per dirla con le parole poco carbate e gentili, da parte di una delle operatrici sanitari in servizio. Alla fine il Tribunale per i diritti del malato, per il tramite della sua coordinatrice Katia Puglielli, ha dovuto chiedere un nuovo intervento all'azienda sanitaria.